Tutto pronto agli ordini dello starter, partiti, partita anche la seconda corsa, cerca delle posizioni con dall'esterno Green Fox che prova a portarsi al comando, questo Green Fox che conduce davanti a Doc Stream, Doc Red, Gypsy Biker per linee esterne, per linee interne c'è invece Vamos Ludmilla, davanti allora come detto Green Fox, Filippo Perri, il numero 6 in vantaggio nei confronti di Doc Stream che la segue all'esterno, e allora Green Fox, Doc Stream poi segue questi Doc Red, questi tre in vantaggio nei confronti poi di Vamos Ludmilla che prova a ricuscire il gap insieme a Gypsy Biker, Doc Stream e Doc Red si preparano ai lati di Green Fox, e allora Doc Stream ai lati di Green Fox, poi Doc Red prova a intervenire anche Gypsy Biker, gli altri che sono più indietro e virtualmente fuori dai giochi, Doc Stream preme su Green Fox e tende a passare, deve respingere però gli attacchi esterni di Doc Red, all'interno si catapulta Gypsy Biker, Doc Stream in vantaggio nei confronti degli avversari, Samuel che mette mano alla frusta, 150 dalla conclusione, a due di margine su Doc Red e tutti quanti gli altri, Doc Stream nel finale amministra la situazione in maniera molto facile, Doc Stream che vince davanti a Doc Red, Gypsy Biker e Green Fox, vince Doc Stream da favorita, Samuel Luongo non delude, il numero 4 al primo, al secondo c'è l'uno di Doc Red e al terzo all'interno sbuca il 3 di Gypsy Biker a battere il 6 di Green Fox, 4-1-3, l'arrivo numerico ufficioso, 2-59, l'inquadratura per Samuel Luongo, il training di Daniele Marinella Lienti, Doc Stream che vince, 2-59 la quota al totalizzatore.